Quest'anno abbiamo fatto l'edizione del calendario che fin dal 1948 procede senza interruzioni. Siamo arrivati a pubblicare quasi 1.300.000 copie e anche in lingua diversa. Come diceva lei, quest'anno il calendario è dedicato alle famiglie dei militari dell'Arba. Vengono ripercorsi nelle varie tavole una serie di episodi, episodi di militari anche famosi, che però vengono ripresi nel loro aspetto più intimo, nell'aspetto più delicato, che è appunto quello della famiglia, quello della mamma, della moglie, dei figli, laddove investono e puntellano il loro sacrificio anche grazie all'amore dei familiari che fino a quel momento li avevano sostenuti. Il calendario viene stampato anche in lingua straniera? Sì, viene stampato in lingua straniera, sono state stampate circa 8.000 copie in inglese, in tedesco, in francese e in spagnolo.